Buongiorno da FT Online, avvio negativo questa mattina per i principali mercati azionari europei, l'indice Fuzzimibri cede l'1,15% circa in questo momento a 23.050 punti, sul grafico in 3d si è completato il doppio massimo che i prezzi avevano disegnato ieri in area 23.370 con base a 23.150 punti circa, la figura doppio massimo fa temere a questo punto la ricopertura del gap prealzista dell'8 di maggio con una base 22.845 punti circa. La fase negativa è legata principalmente al deciso ribasso del mercato obbligazionario europeo, in particolare abbiamo visto il boom del netta discesa nel corso delle ultime due settimane e questo caso dei prezzi e rialzo dei rendimenti sta disturbando anche i mercati azionari. Interessante quindi sarà capire se il movimento di ribasso che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane è solo una temporanea correzione oppure se siamo di fronte a una vera e propria inversione di tendenza. Per il momento i prezzi si sono appoggiati sulla media mobile a 200 giorni, con il boom che è sceso dai 160,50 circa fino a 151,50 in pochissimo tempo. Andiamo a vedere in termini di ritracciamenti di Fibonacci cosa significa questo ribasso, se guardiamo in rialzo dai minimi del settembre 2013, ci accorgiamo che per il momento è stato ritracciato circa un terzo del movimento precedente, quindi siamo ancora nell'ambito di una fase correttiva, ma la velocità con la quale si è realizzato il calo costringe a considerare il ribasso che abbiamo visto dal massimo di metà aprile, solo la prima fase di un movimento correttivo che a questo punto potrebbe evolvere ancora almeno fino a 149, quindi se dovessimo scendere al di sotto della media mobile a 200 giorni, che in questo momento vale a 152,45 circa, ci sarebbe il rischio di un ulteriore rialzo dei tassi sull'obbligazionario con conseguenze probabilmente negative anche sul mercato delle azioni. Vediamo in termini di forza relativa rispetto al BTP future, quindi il grafico di forza relativa, Bund su BTP rappresenta in termini qualitativi la stessa figura dello spread e vediamo che lo spread da un punto di vista grafico dopo essere sceso in modo netto e continuo nel corso degli ultimi due anni, anni, nell'ultimo bimestre ha iniziato a costruire una tendenza rialzista con una coppia di minimi, quello del mese di marzo e quello del mese di inizio maggio, crescente, quindi potrebbe esserci un'inversione di tendenza anche per quello che riguarda lo spread tra l'obbligazionario tedesco e quello domestico e con ovviamente ripercussioni anche in questo caso sul mercato azionario. Passiamo ora ad una coppia di titoli che potrebbero essere interessanti nonostante le incertezze del momento, grazie alla buona trimestrale, ad esempio infatti in Tesa San Paolo è riuscito nel corso delle ultime due sedute a salire fino a confrontarsi con un'importante resistenza e anche questa mattina tutto sommato, nonostante se in caso lo 0,7% circa tiene meglio del mercato, vediamo i massimi di ieri di quota 3,24 che si sono praticamente allineati a quelli del mese di marzo, è evidente che la rottura di quota 3,24 e 3,25 sarebbe un segnale di forza molto importante per un titolo che è il più pesante in questo momento del destino domestico, ieri ha scambiato circa il 20% del totale del mercato e con la rottura di 3,24 sarebbe possibile ipotizzare un'accelerazione del trend crescente che abbiamo visto dai minimi del luglio del 2013, una conseguente rottura anche del lato alto del canale con successivo segnale di forza che in termini di target potrebbe prospettare il raggiungimento di obiettivi che sono legati al raddoppio del canale e quindi fino ai 4,20 Euro. Solo se dovessimo scendere a questo punto al di sotto della media mobile a 50 giorni che nel corso delle ultime sedute si è dimostrata un riferimento importante sul quale il mercato ha lavorato molto prima di decidersi a prendere la strada del rialzo, quindi solo discesa di sotto dei 3,06 Euro e 0,07 Euro farebbero temere una evoluzione negativa pesante. Prima di bilanciarsi in modo netto al rialzo tuttavia suggeriamo di attendere a questo punto la rottura dei 3,25 Euro per avere chiarezza su uno scenario che altrimenti rischia di essere condizionato negativamente come del resto tutto nazionario e come abbiamo detto anche dell'andamento dei bond. Infine diamo un occhio anche ad Unicredit che ovviamente rispetto ad Intesa San Paolo ha un andamento leggermente più dimesso, probabilmente a causa dell'andamento dei suoi conti. Se andiamo a guardare infatti, torniamo un attimo su Intesa San Paolo e andiamo a guardare la forza relativa tra i due titoli, ci accorgiamo che il titolo della Banca di Torino è sicuramente premiato. Mettiamo nella coppia dei titoli da analizzare Unicredit e ci accorgiamo che la forza relativa tra Intesa San Paolo e Unicredit nel corso dell'ultimo biennio è stata favorevole all'intesa. Questa forza relativa crescente si è interrotta nell'ultimo trimestre ma il trend resta in ogni caso favorevole all'intesa. Questo non significa che Unicredit non abbia di per sé un appeal rialzista, esiste tuttavia ancora una forte aria di resistenza con la quale il titolo si deve confrontare, in particolare quella dei 6,50 Euro che ieri sono stati parzialmente superati e anche questa mattina nonostante il leggero calo sono ancora al di sotto della quotazione attuale dei prezzi a 6,51,50 circa, ma soprattutto Unicredit si dovrà vedere poi con la resistenza di RS 85-6,90 un vero e proprio muro che dovrà essere superato perché il titolo possa immaginare di proseguire sulla fase di crescita, sul rimbalzo che lo vede protagonista dai minimi del 2012. In caso di superamento di aria a 7 Euro avremo una evoluzione positiva con un target almeno sul 38% o 38,2% di tracciamento del ribasso dai massimi del 2009, quindi con un target che si posiziona a 8,08 Euro circa. Anche in questo caso potremmo utilizzare la media mobile a 50 giorni come un riferimento al di sotto del quale i prezzi non devono scendere, la media mobile in questo momento transita a 6,26 Euro circa, livello che deve essere rispettato dai prezzi per evitare l'avvio di una fase negativa di una certa importanza. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata, vi invitiamo a commentare le nostre analisi e a suggerirci strumenti per i quali vorreste vedere un approfondimento. Grazie.